Io per carità non sono un economista, ah se fossi stato un economista, ma sono un personaggio creativo, sono un giornalista, uno scrittore, un editore che pensa a fare delle cose sempre diverse, curiose, che lui pensa che siano curiose, perlomeno originali e di sua personale creatività. Però pensando al discorso degli stress test delle banche, questi giochi in borsa che fluttuano enormemente sulla base dei risultati degli stress test, mi viene da pensare che qualcuno ci deve aver guadagnato in queste settimane di fronte al discorso degli stress test, soprattutto giocando su quelle che sono in borsa, su quelle che sono le banche che non avevano superato gli stress test. E allora mi chiedo, ma questi stress test a che cosa servono? Servono anche a far arricchire quelli che sanno manovrare bene in borsa? Domanda da ignorante, per carità, mi risponda a qualche d'uno che non è ignorante come lo sono io per i discorsi di borsa e di economia in genere. Grazie a tutti.